L'Ecco FM, benvenuti. È nostro ospite Gino Buscaglia, che non ha bisogno di presentazioni per questa lunghissima carriera nel campo del cinema, della radio e della comunicazione in generale. Benvenuto Gino Buscaglia all'Ecco FM. Grazie mille. Non ho da dire altro che tu mi hai presentato come se fossi una specie di nome tutelare. Non esageriamo, ho fatto solo il giornalista. Benissimo, un giornalista che appunto si è occupato molto e si occupa tutt'oggi di questo ambito particolare e che ci fa tutti sognare, che è quello del cinema. Non possiamo subito che fare una domanda che forse è provocatoria, perché all'Ecco siamo un po' orfani del cinema. Qual è la realtà lecchese e come la vedi in prospettiva, anche in una prospettiva abbastanza immediata? Non la vedo. Per il semplice motivo che io ci sono cresciuto con il cinema di Lecco, avevo una grande possibilità di scelta, potevo svariare tranquillamente, perché anche i Rioni avevano il loro locale cinematografico. E adesso da troppi anni è un deserto. È rimasta quell'unica sala che è lì a Castello, che non so come diavolo faccia andare avanti, perché si sono anche rinnovati sul piano strettamente tecnologico, e il resto è una città capoluogo di provincia, con una storia culturale alle spalle anche. Io ricordo quando ero un giovane rampante quante possibilità di scelta avevo, non soltanto cinematografiche. E adesso? E adesso se io voglio andare al cinema dove ci vado? Vabbè, è chiaro, c'è Castello. E poi? Una sola sala mi dà un programma solo. Non ho grandi possibilità di scelta. So che ci sono dei matti, sì proprio santi matti, che hanno fatto addirittura un'associazione per vedere se si poteva recuperare il cinema lariano. Si sono costituiti proprio in un'associazione. ho partecipato degli incontri a questo proposito e ho sentito barzellette non impegno da parte per esempio dell'ente pubblico. Perché quindi diciamo che solo dai privati risulta difficile oggi con il panorama che esiste anche commerciale riuscire a far funzionare un cinema o forse meglio ancora un multisala? Beh, multisala perché no, adesso così si ampliano le possibilità di scelta. Io in Lecco ci vedo oltre all'Ariano che deve essere comunque rifatto interamente dall'interno perché c'è soltanto l'involucro. Però intanto è proprietà del comune. Ma che ne è? Cosa sta succedendo a un cinema come il Marconi? Che è lì. Al Nuovo e il Migno che sono lì. Perché sono vuoti e basta? Perché sono di proprietà privata. È possibile che un ente, due enti, il comune e la provincia che comunque ancora esiste, non abbiano niente da dire e niente da fare sull'offrire alla gente la possibilità di andare al cinema. E al cinema non sono soltanto i supereroi. Ci sono anche grandi film di grande qualità e appetibilissimi al pubblico. Su questo possiamo aprire un'altra parentesi che ad esempio è quella del Cineforum di Pasturo che Tugino stai seguendo da qualche decennio, possiamo dire, e che comunque attira le persone. Quindi vuol dire che il desiderio di sognare attraverso lo sguardo esiste ancora e quindi non solo con i film, come si dice, di cassetta. Direi proprio di sì, scusa. Tu mi hai detto Cineforum di Pasturo è una specie di figlio mio perché è nato nel novembre del 1969 con me che dirigevo il primo dibattito per colpa e merito di Don Tullio Vitali che era il parroco di Pasturo e voleva essere un Cineforum di Valle e lo è stato per un sacco di anni. Adesso, quest'anno, abbiamo chiuso la cinquantesima edizione. Cinquantesima, eh? Sempre con il sottoscritto che fa il direttore di dibattito. Risultato, ci siamo ed è vivissimo, non solo, ma grazie al fatto che il Cineforum c'è stato e continuato a esserci per mezzo secolo, in Valsassina una sala cinematografica c'è ancora ed è quella di Pasturo perché anche lì ci sono stati dei parroci lungimiranti che ci hanno creduto a partire da Don Tullio che è l'inventore e hanno continuato a tenere il passo anche con l'evoluzione tecnologica. Infatti adesso come adesso la sala di Pasturo è attrezzata con l'ultima generazione di digitale ed è perfetto. Quindi c'è anche il gusto di vedere ottimamente la qualità cinematografica oltre al fatto di stare insieme. Quindi diciamo non si può parlare di periferia da un punto di vista geografico, a volte la periferia ce la creiamo noi. E come no? Tant'è vero che se ne sono accorti anche quelli della RAI sono venuti a fare un signor servizione per il Tg regionale sui 50 anni del Cineforum di Pasturo. Se ne sono accorti anche loro. Che strano, c'è anche un sindaco a Pasturo che ci crede in queste cose. Ovvero il comune non sta a parte. Ed ecco. C'è stata un'evoluzione nel cinema, c'è stata un'evoluzione nella radio e l'Eco FM diciamo che è un'estrema frontiera oggi nella comunicazione perché appunto è radio ma non lo è, è visual, è una radio visual. Come vedi data la tua esperienza anche nella radio e nella televisione svizzera questo modo di fare comunicazione, di fare musica e anche il trattenimento? Direi che è il modo più adeguato ai tempi. Noi adesso siamo tutti assolutamente multimediali, tutti. Dal telefonino che abbiamo in saccoccia che una volta serviva soltanto per telefonare, adesso ti serve per mille cose diverse e anche per fare immagine. Ci sono proprio le possibilità di interconnettersi in tutti i modi possibili e immaginabili. Una curiosità proprio da collega, nella tua strada professionale qual è il personaggio che hai incontrato e che rimane indelebilmente nella tua memoria? Sono tanti però uno, uno te lo devo dire proprio, mi ha colpito. Ne sono stato onorato di essere stato suo amico. Mi ha fatto scoprire anche delle zone in assolutamente per me sconosciute di Roma e Sergio Leone. Grandissimo regista con il quale ho condiviso un'avventura, se vogliamo, perché io ho visto rinascere il suo progetto ultimo e che lui dava lui stesso, mi aveva detto, dava per morto. C'era una volta in America. Gino, adesso sei lecchese o sei ancora svizzero? No, sto abbandonando la Svizzera per il semplice motivo che non ho più ragione di essere là. Sì, ho ancora due o tre cosettine che continuo a fare e manterrò, però mi ritrasferisco in quel di Lecco che è casa mia e ho il Cineforo, la 51esima edizione di Pasturo che sto organizzando e vedremo se ci sono delle cose da fare anche qui, perché no? Adesso che il tempo ce l'ho, si può fare, si può fare. Bene, una voce in più nell'ambito della cultura lecchese che saremo subito pronti ad ascoltare. Io ringrazio Gino Buscaglia per essere stato con noi e ci sarà sicuramente qualche altra buona occasione per rivederci e risentirci. Sapete dove trovarmi. Grazie.